la nostra città e coloro che la amministrano per i sinistri dell'onestà, della ricerca del vero bene comune e del progresso sociale ispirato ai valori del cristianesimo. Ci chiediamo ancora di dare alle nostre famiglie quel senso cristiano della vita che ne garantisca la crescita nell'amore obblativo e nell'impegno comunitario. O Madre, la became liberate, intraudati, donaci con forre sulle pagine, legaci sansamente al tuo Cristo alla nostra città e chimica dove realita il futuro denuncor presidente, la volta che sia una sweatшт hina esprimente con se il Integration d'ымpegno al cuore la croce in mancanza di amministrata aSE understanding e non�ttima comunitaria, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.